Terzo posto, grande pezzo, lo dico io che spacca di brutto, italiano, abbiamo sentito tanto in questi ultimi mesi, soprattutto durante l'estate, stiamo parlando di Baby Key e Giussi Ferreri. Io già avevo sentito la cantante prima, una delle poche donne che fa questo genere di musica. Una musica bella, anche questa ha fatto benissimo, però io spendo un sacco di soldi per andare a Roma, a Bangkok, a Milano, a Hong Kong. Ho letto una volta una foto, c'era così, mi spendo 3.200 euro. È tanto, però ti piace viaggiare, visto che da Roma a Bangkok, passando da Londra fino a Hong Kong. A me piace tantissimo viaggiare, ormai non abbiamo tanto tempo, ma sempre quando ho un po' di tempo libero viaggio in giro. E quindi è una musica bella. Anche perché ha un po' di ritmo. C'è un po' di reggaeton, mi sa. Tu hai mai preso un aereo per raggiungere, fare una sorpresa ad una persona importante? Sì, quando torno a casa. Sono in Brasile, vado a vedere la mia famiglia. Sì, ma lì ci vai perché non è una pazzia che uno fa. Cioè, ci va perché torna in famiglia. Però quando eri giovane, quando eri... Eh, ho fatto una volta, sì, ho fatto una volta, questo mia moglie lo sa perché non ero sposato con lei. Ah, ok. Una volta avevo 16 anni e c'era una ragazza, che ho detto, va bene, carina. Carina. Oggi non è tanto carina. Vabbè. Che bella. Classica cattiveria degli uomini. No, ma non è oggi, se fossi oggi non farei questo. Eh beh, ma certo, cambiano tante cose negli anni. Anche a me magari piacevano persone prima, poi le rivedo adesso. Insomma, tutti credo sia una cosa. Eh, nell'epoca non avevo tanto sole. Quindi cosa mi hai fatto di così pazzesco? E quindi sono stato lì da dove eravamo noi del settore giovanile. Ho preso due autobus per arrivare, però è lontano da dove eravamo. Due autobus, hai pensato? Fino dove abita questa ragazza ci voleva un'ora quasi. Sono andato lì fino da lei per andare a prasio, per stare insieme, conoscere la famiglia e dopo sono tornato. Ah, proprio cosa seria quindi, cioè, conoscere la famiglia. Però ero un'ora, ero da solo, non sapevo se ce la facevo arrivare fino lì. Vabbè, quindi non sei proprio andato da Roma a Bangkok. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli. Prova Interchannel